Il ministro dell'interno, onorevole Mario Scelba, accompagnato dal capo della polizia in rivista 3.000 militari schierati in ordine perfetto. È il 109esimo anniversario della fondazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nacque l'11 luglio 1852 per assicurare l'ordine civile negli anni in cui la nazione protendeva tutte le migliori energie a riscatto. La medaglia d'oro terza al valore civile di cui il ministro dell'interno freggia la bandiera testimonia la riconoscenza della nazione per le centinaia di vite 960. La medaglia d'oro Tradizionalmente viva e attiva del corpo all'unificazione e al progresso della patria. Torino Italia 61. Saluto. Facili e esercizi di abilità ripetono alcuni schemi di impiego pratico. G di bandiere. I colori d'Italia di Torino e del corpo Comprano è ancora scolastico. ' Ritmi di un'armoniosa coreografia, ma non è soltanto spettacolo, è dimostrazione di una profonda intesa fra gli uomini e di una maturata educazione collettiva, somma di individuali capacità tecniche e psichiche, esemplare testimonianza di alto addestramento, disciplina e coesione morale e militare. Musica Un fervido messaggio augurale si leva dalla stella d'Italia sulle ali di Candi di Colombi, trascorre nei cieli della patria sulle note delle campane di San Giusto, riconferma la fedeltà del corpo alle sue tradizioni gloriose, di silenziosa dedizione alla causa dell'ordinato e civile provvedire del popolo italiano. Musica